Dite ai miei figli che li amo, così ha detto la signora ferita nei pressi della chiesa di Nizza che poi ha cercato rifugio in un bar. Alla fine non ce l'ha fatta, ferita alla gola. Tre morti a Nizza, un morto da Vignone che gridava all'Akbar, che è stato annientato in tempo dalla polizia. Bene, l'Occidente è sotto scacco, l'Occidente è sotto un attacco durissimo che ormai non si ceda neanche. Le parole del Presidente Erdogan, anzi del Sultano Erdogan contro il Presidente Macron, reo di difendere la libertà d'espressione dell'Occidente, le scene dei formaggi francesi eliminati dai supermercati di tante città, dal Marocco all'Arabia Saudita, quell'Islam consolare, come l'ha definito il Presidente Macron, quell'Islam che ormai attraverso pseudocentri di culto, pseudo moschè penetra nelle nostre strade, nelle nostre città ed è fuori controllo, finanziato da paesi stranieri come appunto la Turchia, il Marocco, il Qatar. Dobbiamo difenderci, dobbiamo difenderci subito e non possiamo più ascoltare proclami ipocriti, buoni propositi, Gesù e Charlie, basta con queste frasi sterili, con questa retorica. L'Occidente è sotto attacco, la nostra libertà e i nostri valori fondanti sono sotto attacco.